Get Together 2016, terza edizione. Siamo alla fine della prima giornata di lavoro nell'incontro di gruppo qui a Vicenza e stiamo continuando a lavorare sulla responsabilità e il recupero di tutte le potenzialità dell'individuo per cercare di avere un effetto intenzionale e costruttivo rispetto alle situazioni concrete. Più lavoriamo e più mi rendo conto del valore aggiunto di un buon processo di coaching applicato alla persona e applicato alle situazioni di ogni genere.